Non sono finite le difficoltà nelle RSA. Dopo la guerra interna contro l'epidemia, le strutture di assistenza agli anziani ora si trovano a fronteggiare la carenza di infermieri. La mancanza del personale è un problema di vecchia data, ma dal lockdown il fenomeno si è accentuato. In Toscana, secondo i dati di FNOPI, Federazione Nazionale Ordini Professionali Infermieristiche, mancano al momento 3.250 infermieri, di cui 2.100 proprio in RSA. Per contrastare l'emergenza sanitaria, la regione ha iniziato ad assumere in massa, sono stati ripescati nomi dalle graduatorie e molti hanno accettato la chiamata nel settore pubblico, con la conseguenza di avere residenze sguarnite, in cui il personale si trova a gestire contemporaneamente numerosi ospiti. Ci sono infermieri che seguono anche 50-60 utenti dentro la stessa struttura, spiega Nicola Drauli, consigliere nazionale, FNOPI ed nel direttivo dell'ordine di Grosseto. Così diventa difficile occuparsi in maniera adeguata di ogni persona. Per trovare nuovi addetti si ricorre alle agenzie di lavoro, si pubblicano offerte, si chiede all'ordine e si sparge la voce, ma non è sempre sufficiente. La RSA si appella al mercato privato, ma fa molta fatica, già c'è chi cerca lavoratori all'estero, un fenomeno che non si vedeva dagli anni 90, prosegue Drauli. Le carenze sono in tante regioni, in Toscana c'è una graduatoria estera aperta, che è stata molto utilizzata durante la pandemia, a pagare i fuggi-fuggi dalle residenze. Sono soprattutto le grandi città, le strutture nei piccoli paesi riescono a legarsi a dei professionisti autoctoni del territorio, mantenendo rapporti lavorativi stabili. Grazie a tutti.